Questo video fa parte della guida completa di Assassin's Creed Brotherhood realizzata da www.games.it. Visitateci! Caricamento Caricamento So che sei lei Voglio andare a... Caricamento Accosta qui Che cosa succede Gary? Voglio parlarti in privato Hai presente quel materiale? Caricamento Caricamento La gente comune come il mare Pericolosa e imprevedibile Ecco perché abbiamo costruito delle mura Non vedo alcun muro Quarantena terminata